Tutto è iniziato a Trento, durante la guerra. Maestra, quando ho cattivato le bombe, ho pregato. Perché Gesù non mi ha ascoltato? Lo so che è difficile da credere, ma ho sentito una voce. Mi han detto, datti tutta a me. Cristiana Capotondi è Chiara Lubic. Chi ha la possibilità deve donare a chi ha più bisogno. Da quando una donna può stabilire cosa comanda Gesù? Chiamano la casa focolare. Altri la chiamano la casa dell'amore. Dio il tuo signore che stavolta offro io. La guerra è finita! E' questo il desiderio di Gesù? Essere una cosa sola? Camillo! Stavolta, la mia preghiera ha funzionato. E che cosa hai chiesto a Gesù? De non farti morire. In prima visione, Chiara Lubic. L'amore vince tutto. Domenica 3 gennaio, 21 e 25. Rai 1.